Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia. Io sono il vostro assistente di volo, il signor Ojo, e oggi parleremo un po' insieme del sistema Garmin G1000 montato a bordo del Cessna 172S. In realtà questo video l'avevo già proposto nel canale di All Games Italia, ma YouTube ha deciso di renderlo illeggibile, per cui mi vedo costretto a riproporvelo in un nuovo formato. Ma a bando alle ciance passiamo direttamente a bordo del nostro Cessna 172 e notiamo subito delle grandi differenze rispetto al Cessna 152 che abbiamo pilotato nei primi video che abbiamo pubblicato qui nel canale di All Games Italia. Ma prima di vedere le differenze vediamo quello che è rimasto uguale invece, e parlo più nello specifico di questi tre strumenti, il tachimetro, l'indicatore di assetto e l'altimetro. Questi sono rimasti in forma analogica ma sono anche ridondanti perché sono stati poi tutti tradotti nello schermo di sinistra che andremo presto a vedere, perché sono presenti per un semplice fatto di sicurezza. Dovessero saltare gli schermi principali avremo comunque a disposizione alcuni strumenti di base che ci permetterebbero di raggiungere l'aeroporto più vicino in sicurezza. Detto questo passiamo agli schermi del Garmin G1000. A sinistra abbiamo il Primary Flight Display o PFD, come lo chiamano gli addetti ai lavori, lo schermo di volo principale. A destra invece abbiamo il Multifunction Display MFD, lo schermo multifunzione. Partiamo dal PFD. La prima cosa che notiamo è che lo schermo ci mostra una rappresentazione 3D del mondo intorno a noi, basata su mappe GPS specifiche per il volo. Non troveremo infatti indicazioni su strade o città, ma gli aeroporti sono rappresentati con grande precisione, tant'è vero che qui, come vedete, possiamo vedere persino il numero della pista, che vi assicuro corrisponde a quello che vediamo poi nel gioco. Nella parte inferiore del display troviamo la nostra bussola che ci mostra la direzione del nostro aereo rispetto al nord tramite questa piccola icona al centro, questo bell'aeroplanino, associata a un triangolo bianco qui sopra e a un grosso numero che specifica il grado preciso verso cui stiamo puntando, in questo caso 346 gradi. Questa bussola svolge anche la funzione di indicatore di rotta, che nel Cessna 152 era uno strumento separato, se vi ricordate. Ma siccome non abbiamo impostato un piano di volo o comunque un punto di navigazione, ne parleremo più avanti quando lo avremo fatto. Qui a sinistra vediamo un altro valore in gradi di colore azzurro e accompagnato dalla scritta HDG, che significa heading, ovvero direzione. Questo è un valore che possiamo impostare manualmente tramite questa manopola qui, anch'essa indicata dalla sigla HDG. Ruotando la manopola in questo modo, il valore cambierà e con esso la posizione di questa coroncina azzurra all'interno della bussola, la vedete qua. Gli impieghi di questa funzione sono principalmente due. In primis ci dà l'opportunità di impostare un valore di direzione che possiamo usare come riferimento, specialmente nelle fasi di predecollo e atterraggio, per trovare la pista corretta. Se avessi iniziato questo video dalla zona di parcheggio e la mia pista fosse stata la 25, avrei potuto fare così, quindi mettere 250 che corrisponde alla pista 25, per aiutarmi a muovermi nei percorsi di rullaggio e se invece stessi cercando di atterrare sulla pista 25, questo mi avrebbe data un'indicazione precisa di dove si trova la pista rispetto a me, cosa veramente utile soprattutto quando facciamo i circuiti intorno all'aeroporto, questo davvero ci fa sempre sapere dove sarà la nostra pista. L'altro scopo, non so se più nobile o no, è quello di impostare una direzione da perseguire al nostro autopilota in modalità heading, ma questo lo andremo a vedere quando parleremo del pilota automatico. Ci vorrà un po', quindi tranquilli, mettetevi comodi. Qualora volessimo allineare l'indicatore manuale alla nostra direzione attuale, ci basterà premere su una manopola per effettuare la modifica in maniera immediata. Adesso attenzione, controllate la coroncina e il valore qui, io premo, vedete, sulla manopola, ping, e torna esattamente davanti a noi, 346 come la direzione che il nostro aereo ha assunto in questo momento. Sulla destra troviamo un altro valore in gradi, di colore viola e accompagnato dalla sigla CRS course, praticamente rotta. Questo è il valore che andiamo a modificare, per esempio, quando vogliamo allinearci a una direttrice su un radiale specifico di un VOR. Lo possiamo modificare tramite la parte triangolare di questa manopola. Poi, passiamo oltre, vediamo qui a sinistra il tachimetro rappresentato in formato lineare, invece che in quello circolare degli strumenti analogici, come qua sotto. In questo riquadro nero, qui con una specie di frecciona, ci sarà la velocità esatta in nodi, e qui sotto invece abbiamo la TAS, che è la True Air Speed, ovvero la velocità aerea reale. Sul tachimetro poi potremo anche visualizzare delle informazioni aggiuntive, che vedremo tra poco, anche perché adesso di velocità non ce n'è, quindi è un po' inutile mostrarvele, visto che siamo fermi come dei massi, qui sulla pista numero 35. A destra poi c'è l'altimetro, anche se rappresentato in formato lineare e diviso in due sezioni. Quella a sinistra è l'altimetro vero e proprio, e quella di destra rappresenta la velocità di ascesa o discesa. Ora siamo fermi, come appena detto, ma non appena in volo vedrete che sarà tutto un po' più animato. Poi, quando si esegue l'atterraggio ILS, qui è possibile vedere anche un indicatore sulla sinistra, un terzo indicatore, che ci aiuta a trovare l'angolo di pianalanata corretto per l'approccio alla pista. In questo video però non parlerò di ILS, ma vedremo se usarlo come tema per un prossimo tutorial. In basso troviamo l'indicatore della pressione, che possiamo modificare tramite la parte rotonda di questa manopola, che è la stessa del course. Questo valore di solito non lo impostiamo dopo che abbiamo comunicato con la torre di controllo, che in fase di atterraggio di solito ci comunica cosa mettere qui. Sicuramente è utile per avere gli strumenti correttamente tarati e non rischiare di fare una discesa rovinosa. Al centro, infine, troviamo l'indicatore di assetto con la linea dell'orizzonte, questa qua bianca lunga, poi una rappresentazione schematica delle nostre ali, queste due freccette gialle, e della nostra fusoliera o del nostro muso, che invece sono queste due linee gialle convergenti. Non mancano naturalmente le varie linee che indicano gli angoli di ascesa o discesa e di virata. Qui poi vedete i due triangolini, quello del fronte che rimane fisso, e poi l'angolo di virata e questa che è la bolla. Sopra l'altimetro troviamo anche l'impostazione dell'altitudine, che come per l'heading, la direzione possiamo impostare manualmente tramite questa manopola qui sotto. Notate che se vado a modificarla il colore diventa azzurro, che immagino sia il codice colore che identifica i valori che possiamo modificare manualmente. Per modificarla, come ho detto, usiamo la manopola indicata da alt, divisa anch'essa in due manopoli, una più grande e una più piccola. La maggiore serve per indicare le migliaia di piedi, mentre quella piccolina serve per indicare le centinaia di piedi. Come vedete, girando la manopola, passiamo anche al valore di 200 dove siamo in questo momento, ed e compare anche qui una piccola coroncina che è la cugina, se vogliamo chiamarla così, di quella della direzione. Lasciamo però da parte un attimo questa impostazione dell'altitudine che tornerà utile per l'autopilota e passiamo alla parte superiore del nostro primary flight display. Sulla sinistra abbiamo le frequenze dei radiofari per il sistema nav. Ci sono due canali separati che possono essere impostati indipendentemente. Sono tutte cose che abbiamo visto anche sul Cessna 152. Ogni canale ha una frequenza di standby, qui a sinistra, e una frequenza attiva, qui a destra. La frequenza evidenziata in bianco è quella che possiamo modificare. Tale operazione la si può eseguire con questa manopola nav, eccola qui, divisa anch'essa in una parte più grande che modifica i megahertz, vedete, e una più piccola che invece modifica i kilohertz. Cliccando sulla manopola si cambia il canale da 1 a 2 e viceversa naturalmente. Per attivare una frequenza è sufficiente evidenziarla in bianco e premere il tasto con la doppia freccia e vedrete che adesso questo 111.05 passerà di qui. Voilà. Rispetto alla strumentazione del 152, il Garmin ha il vantaggio che invece di costringerci a decodificare un messaggio morse proveniente dal radio faro, un messaggio che contiene la sigla identificativa di quel faro, questo Garmin G1000 farà per noi il lavoro sporco. Vi faccio subito un esempio. Dalle mappe so che la frequenza del VOR vicino a noi è 110.2. Andiamo a regolare la nostra frequenza di standby su un AV1 su 110.2, quindi andiamo a 110.20.2. Andiamola ad attivare. Tadà! Vedete, adesso la frequenza attiva è 110.2 e a lato è comparsa una sigla, TAG, ed è proprio la sigla del radio faro su cui siamo sintonizzati, Taranto Grottaglie. È una cosa davvero comoda e veloce perché altrimenti dovremo ascoltare il messaggio morse per capire se effettivamente siamo sul radio faro giusto. Speculare al sistema di navigazione è il sistema di comunicazione. Anche qui abbiamo due canali con due frequenze diverse e anch'esse sono divise in frequenze di standby e frequenze attive. L'unica differenza è che qui la frequenza di standby è a destra, mentre quella attiva è a sinistra. come per le frequenze di navigazione, anche queste sono modificate da una manopola doppia, ma è inutile ve la faccia vedere perché il funzionamento è assolutamente identico. Poi, la sezione nera al centro, piuttosto vuota al momento, è dedicata al piano di volo e all'autopilota. Non avendo assegnato un piano di volo al nostro aereo, ovviamente qui vedete la desolazione più assoluta. Ma qui troveremo le sigle dei due punti di navigazione che identificano la tratta che stiamo seguendo e in più alcune informazioni aggiuntive, come la distanza in miglia nautiche, nm, e la direzione del punto verso cui dobbiamo dirigerci. Tutta la riga inferiore invece è relativa alle impostazioni dell'autopilota e siccome ce ne sono tante preferisco descriverle soltanto quando effettivamente saranno presenti a schermo. Nella parte inferiore invece dello schermo troviamo l'indicazione della temperatura esterna, in questo caso 14 gradi. A destra troviamo il codice del nostro transponder e l'ora locale. Per ultima cosa delle varie funzioni del nostro schermo cito la minimappa simile ma indipendente a quella che troveremo invece nell'MFD di qua. Per disattivare oppure impostare alcune impostazioni dovremmo fare alcune cose, questo mi dà il là per parlarvi dei pulsanti con questi triangolini che vedete qui sotto. Il Garmin G1000 non ha lo schermo tattile ed è per questo che vediamo Do Not Touch Screens in alto là. Tutte le funzioni aggiuntive vengono gestite da questi pulsanti fisici a cui sono associate delle etichette per così dire cangianti. La prima che andremo a esaminare è quella di sinistra. In Set indica la mappetta di cui vi parlavo poc'anzi. Cliccando qui troviamo alcune funzioni che però vedremo quando parleremo più approfonditamente dell'altro schermo, l'MFD. Per il momento possiamo spegnerla con OFF oppure semplicemente tornare alla schermata precedente con BACK. PFD è il menu che ci consente di aggiungere degli indicatori secondari. Wind fornisce informazioni sul vento ed è visualizzabile in tre formati. Il primo, option 1, ci mostra il vento scomposto in vettori ortogonali, uno longitudinale alla fusoliera, l'altro perpendicolare ad essa. Naturalmente è anche indicata la direzione, quindi destra-sinistra o avanti-dietro, e la forza delle due componenti del vettore. Può essere utile in caso di vento forte per capire l'intensità della componente laterale della corrente d'aria. Il secondo tasto, invece, ci mostra il vettore del vento e lo fa mostrandoci la direzione reale, diciamo così, e la velocità. Quindi in questo caso abbiamo un vento che viene da sinistra e va verso destra con un'intensità di due nodi. Infine possiamo visualizzare anche la direzione in gradi tramite la terza opzione. Segniamo questo che è quella che preferisco più dettagliata. Facciamo BACK per tornare al sottomenu precedente e troviamo DME. DME è la sigla che indica il Distance Measuring Equipment, ovvero lo strumento di misurazione di distanza che semplicemente sfrutta uno specifico segnale emesso da un radiofaro per determinare la sua distanza da esso. Al momento siamo già impostati su un radiofaro, che è quello di grottaglie, e vedete siamo impostati sul NAV1, il DME è impostato sul NAV1, e questo radiofaro, impostato sulla frequenza 110.2, ha anche la funzione DME e ci dice che è distante 0.6 miglia nautiche. Se non fosse sintonizzato o se il radiofaro non avesse la funzione DME, qui non comparirebbe nulla. Poi abbiamo BRG, suppongo sia Bearing 1 and 2, ci permettono di vedere le informazioni sulla direzione dei radiofari su cui siamo sintonizzati. In questo caso abbiamo la prima direzione, vedete 0.6 nanometri, sì nanometri, miglia nautiche, verso TAG, che è confermato anche dal DME, e questo è il NAV1, vedi che anche qui è comparsa una freccia aggiuntiva che purtroppo è coperta dalla freccia del GPS, che comunque ci indica la nostra direzione del radiofaro su cui siamo sintonizzati. Se clicchiamo un'altra volta BRG, vediamo NO DATA, perché la seconda frequenza del radiofaro non è stata impostata, o meglio, non esiste un radiofaro su quella frequenza qui nei dintorni. Cliccando ancora troviamo il GPS, che però non abbiamo un piano di volo, per cui immagino che sia disattivato e non ci mostra nulla. Cliccando un'altra volta abbiamo ADF. Allora, ADF indica l'Automatic Direction Finder, l'identificatore o il trovatore di direzione automatico, ed è anch'esso basato su un sistema di radiofari. E qui penso che sia d'obbligo fare una piccola parentesi, perché nel video dedicato ai VOR, ai VOR, vi avevo spiegato che quei radiofari, i VOR appunto, emettono un segnale circolare, diviso in 360 gradi, che ci permette di avvicinarci o allontanarci da essi seguendo una direttrice specifica e indipendente dalla posizione attuale del nostro velivolo. Quindi è proprio una direzione relativa al VOR. Tali segnali però sono influenzati dalla curvatura terrestre, ve lo dicevo forse anche nel video precedente. Per cui i radiofari VOR agiscono su una distanza di circa 30 miglia nautiche, una distanza che si può definire a vista o line of sight, come dicono gli inglesi. È per questo che talvolta se impostiamo la frequenza di un VOR troppo lontano il nostro aereo non riuscirà a collegarsi. Gli ADF sono invece dei fari non direzionali, che si limitano a indicare la propria posizione rispetto all'aereo, senza alcun riferimento specifico al nord magnetico. È come una luce in lontananza in pratica, non sappiamo se è diretta a nord o a sud, a est, eccetera. Sappiamo soltanto che è lì per cui possiamo seguirla. A differenza dei VOR però il loro segnale non è deformato dalla curvatura terrestre, per cui può essere captato a distanze molto maggiori. Anche qui però bisogna tenere conto di alcuni fattori che potrebbero ostacolare il segnale ADF, come montagne ed eventi atmosferici. Il GPS, va detto, ha soppiantato un po' entrambi questi sistemi di navigazione, ma è comunque bene avere un'infarinatura di base sia su VOR sia su ADF, anche se quest'ultimo sia l'ADF non è che l'abbia proprio visto usare spesso nei video relativi a Flight Simulator, anzi non l'ho visto usare mai. C'è, è presente nei vari modelli di aerei, ma il suo uso penso che sia praticamente dimenticato, per cui anche voi potete tranquillamente lasciarlo da parte, però sappiate che esiste, se siete proprio super simulativi potete anche affidarvi a quello. HSI Format è il formato della nostra bussola che può essere a semicerchio, così, oppure a cerchio completo. Come avete capito io preferisco il cerchio completo perché è più completo anche come informazioni che fornisce. BRG2 è la stessa cosa di BRG1, solo che fa apparire la cosa qui a destra, quindi possiamo seguirne due volendo di nav, punti nav. Torniamo indietro e vediamo il prossimo menu che è CDI e CDI è il nostro indicatore del sistema di navigazione che stiamo seguendo e può essere basato su GPS, sul VOR1 o sul VOR2. Mettiamolo su VOR1 così è più chiaro. Come abbiamo visto sul Cesna 152? Qui vediamo che c'è una linea spezzata, questa verde, che indica il nostro scostamento rispetto alla direttrice impostata. Allora la freccia e la parte terminale sono la direttrice impostata e la linea spezzata qui è lo scostamento rispetto a tale direttrice. Questi pallini rappresentano la misura dello scostamento e credo che siano ognuno rappresentante 5 gradi di scostamento, in questo caso siamo circa 3 gradi scostati rispetto alla direttrice che ci porterebbe al nostro VOR. Chiudiamo, passiamo dunque oltre, lasciamo per il momento CDI, anche se poi torniamo in un nuovo GPS. Abbiamo il menu ADF e DME, qui possiamo impostare la frequenza di un radiofaro ADF e inoltre anche andare a modificare, se vogliamo, la frequenza su cui il nostro sistema DME andrà a regolare la sua distanza. Ma lasciamo perdere perché come detto ADF non lo consideriamo troppo. Poi XPDR è il nostro transponder ed è praticamente identico a quello che abbiamo visto sul Cessna 152, solo che qui è tutto digitale. Cliccando su code possiamo inserire le quattro cifre che identificano il nostro aereo, ma al momento non ci interessa. Passiamo oltre, quindi facciamo BACK e abbiamo qui TIMER & REFERENCES e quindi ci dà accesso a un semplice timer che può essere impostato anche come conto alla rovescia e ci permette anche di inserire dei segnalini sul tachimetro che ci fanno avere un riferimento visivo relativo alla velocità ottimale dichiarata dal produttore di questo velivolo per varie manovre. GLIDE per esempio è la velocità di planata ottimale verso l'atterraggio. VR è la velocità minima che ci consente di decollare. VX è la velocità dell'angolo di cabrata ottimale, ovvero il miglior rapporto tra metri percorsi orizzontalmente e metri guadagnati verticalmente. Diversa è però la VY che è la velocità ottimale di ascesa. Usando questa manopola in basso a destra possiamo interagire proprio con questo menu. Cliccando sulla manopola vedete possiamo andare a selezionare le varie cose ma le vedremo dopo. Minimums è una cosa relativa agli atterraggi tramite ILS se non erro ma non ne trattiamo ripeto in questo video per cui lasciamo perdere. Chiudiamo anche questa schermata e vediamo NEAREST che è NEAREST ovvero i più vicini e ci dà una lista di tutti gli aeroporti presenti in un determinato raggio. Fornendoci anche varie informazioni come la direzione qui 349 gradi, la distanza 0,7 miglia e la presenza o meno di un sistema ILS. Poi anche la frequenza della torre se c'è, qui c'è a grottaglie ma per esempio in questo LITTLE che è piccolo proprio come sembra suggerire il nome deve essere un avio superficie, non c'è torre di controllo, non c'è sistema ILS e anche la lunghezza della pista che questo runway sono solo 1800 piedi. Sono informazioni utili anche per vedere i codici da inserire magari nel nostro piano di volo. Chiudiamo anche questo e troviamo ALERTS che è una lista degli eventuali problemi che dovremmo, speriamo di no, affrontare in un volo particolarmente problematico. A questo punto direi che abbiamo concluso l'esplorazione del PFD ovvero del primary flat display qui sulla sinistra e vorrei spendere due minuti, cerco di essere brevissimo, per parlare un attimo del sistema di comunicazione dei suoi tasti che troviamo proprio qui al centro dello schermo. COM1 mic attiva il microfono che interloquisce con la stazione radio su cui siamo sintonizzati, in questo caso COM1. COM1 e COM2 sono la frequenza attiva che possiamo ascoltare, in questo caso abbiamo in ricezione solo COM1, però possiamo attivare anche COM2, in questo modo sentiamo entrambe le frequenze in cuffia. Volendo sarebbe possibile anche attivare un terzo microfono, un terzo ricettore audio, ma qui non c'è. COM1 o COM2 non è attivo qui perché permetterebbe di attivare entrambi i microfoni, quindi sia per il pilota sia per il copilota, e in questo modo si avrebbe una separazione dei canali di ricezione così che il pilota possa parlare con il canale 1 e il copilota possa parlare con il canale 2. TELE è un tasto non usato ma che se ne andiamo a premere compare comunque la lucetta, ma per qualche motivo non riusciamo più a spegnerla. Che sia il telefono di bordo? Non lo so, non ho capito ancora di cosa si tratti. Poi qui abbiamo dei pulsanti così quasi per bellezza, PA, è il sistema di comunicazioni con i passeggeri, speaker attiva l'altoparlante nella cabina di pilotaggio. Questi servono per rendere muti i segnali dai radiofari, i segnali audio dai radiofari e per aumentare la sensibilità del nostro ricettore, però direi che qui non servono davvero. In questo riquadro troviamo i tasti che ci permettono di ascoltare i segnali che arrivano dai radiofari, quindi dai radiofari ODME, ADF eccetera eccetera. In questo caso se andassimo a premere NAV1, così, dovremmo sentire il codice MORSE relativo al VOR di grottaglie che ci dà, e l'ho sentito in lontananza, ci dà il codice MORSE che crea la sigla TAG. Comunque andiamolo a spegnere anche perché è piuttosto fastidioso. Qui sotto ci sono altri tasti che non vengono usati, questo per esempio per riprodurre dei messaggi pre-registrati. Anche questa parte finale con scritto CREW è inutile nel gioco, ma serve per isolare le comunicazioni. Qui c'è il volume dello speaker, ma non ci serve molto. E infine abbiamo un tasto rosso che sa tanto di autodistruzione, ma che dovrebbe resettare in qualche modo il sistema Garmin, ma qua non funziona. Non è presente la possibilità di farlo. Perfetto, spero di non avervi annoiato troppo con queste funzionalità che possono essere considerate davvero minori, però per completezza mi sembrava giusto mostrarvi. E passiamo finalmente all'MFD, al nostro multifunction display. Vediamo in primo luogo che la distribuzione dei vari pulsanti qui attorno e anche delle manopole è la stessa del PFD. Al centro troviamo una mappa GPS in 2D con varie informazioni come i nomi dei vari radiofari e dei vari punti di navigazione e sulla sinistra un elenco di indicazioni relative al motore e al sistema elettrico. Qui ci sono i giri motore, poi il flusso di carburante in galloni, la pressione e anche la temperatura dell'olio, la temperatura dei gas di scarico che ci aiuta a trovare il valore ottimale della miscela e per questo vi rimando al video dedicato a questo aspetto, quello dedicato proprio alla miscela. Poi il valore del vuoto, la quantità di benzina che abbiamo a bordo e i dati sulla batteria e sul consumo elettrico. Con i tasti inferiori, che vedete sono molto meno rispetto a quelli del primary flight display, possiamo interagire con la mappa. Mappa ci permette di vedere i contorni altimetrici tramite il tasto topo, che non è topolino, e Nextrad invece ci permette di vedere la situazione meteorologica relativa alla densità delle nuvole, eccole qui. Vediamo se riusciamo a vedere un po' di più, qualche nuvola più intensa, no. Praticamente abbiamo tre codici colori, verde, poche nuvole, arancione, no quantità media e rosse. Sono nuvolissime, tante tante nuvole, magari anche pioggia e tempesta, ma siccome questo sistema ci copre un po' troppo, qui sulla mappa principale, non mi piace tenerlo attivo, è utile, qui torna utile la mappetta qui sulla sinistra, e qui possiamo anche qui attivare il Nextrad, e vedete, questo può esserci utile, proprio come riferimento per evitare eventuali temporali. Ma sulla mappa principale mi piace averla pulita, anzi per pulirla ancora di più possiamo usare il tasto declutter, che vuol dire declutter, praticamente la pulizia, e ci toglie alcuni segnali, non qui perché questi siamo molto zoomati, ma vedete qua c'è un segnale di un radiofaro ADF se non erro, e se premiamo declutter, come mai non funziona? Mi ha sempre funzionato, ma forse è più distante, ok, forse qui funziona. Ecco, vedete, mi toglie alcuni dei segnali più ingombranti, funziona solo a certi gradi di zoom, zoom che è regolato da questa levetta joystick, che può essere anche usata per muovere lo schermo, così, in maniera scomodissima, purtroppo è una maniera scomodissima col mouse, ma dubito che lo userete molto spesso, questo piccolo joystick, per cui facciamocene una ragione. Torniamo allo zoom ravvicinato, e passiamo a vedere che c'è anche un indicatore del vento qui sopra, che purtroppo ha il vettore che indica la direzione errata, o almeno credo. L'angolo in realtà è corretto, perché andiamo a confrontare anche con l'altro, vediamo se riesco a visualizzarle tutte e due nella stessa schermata, sì. Vedete, l'angolo, adesso noi non siamo direttamente a nord, questo indica la direzione col nord in cima, mentre qui è la direzione relativa al nostro aereo, però siccome più o meno siamo a nord, notate bene che qui la freccia punta verso sinistra e qui punta verso destra. Sembra quasi che qui, nel multifunction display, la nostra freccia indichi la direzione da cui proviene il vento, invece che la direzione verso cui il vento è diretto. Credo sia più corretta qui sul nostro display principale, però non so se questa sia una funzione specifica del Garmin, che lo mostra davvero così, oppure se è un bug del gioco, e qui mi chiedo come mai i betatester o la Asobo Games non si siano accorti dell'errore e l'abbiamo riparato. Però insomma sappiate che c'è questa discrepanza fra le due frecce indicanti il vento, però di solito questa io non la guardo mai perché ho questa qui che mi è molto più utile. Poi passiamo, dopo questa lunga descrizione, possiamo finalmente cominciare a sporcarci un po' le mani e per prima cosa imposteremo il piano di volo. Attenzione, anche qui ci sono diversi bug che bloccano tutto, tutto lo schermo addirittura bloccano, addirittura le indicazioni relative al motore, per cui fate attenzione perché se dovesse bloccarvi lo schermo è molto difficile riuscire a sbloccarlo, anche spegnendolo e riaccendendolo nella simulazione non cambia niente. A volte bisogna così smanettare un po' per cercare di renderlo di nuovo attivo, altrimenti bisogna salvare e ricaricare la partita. È l'unico modo per riattivarlo molto spesso. Speriamo riescano a risolverlo, ma a un mese dall'uscita del gioco il bug c'è ancora, di pace non se ne sono viste, per cui speriamo che in futuro molto prossimo la cosa sia finalmente risolta. Ma vediamo un po' l'operazione sperando che un bug non ci affliga proprio durante le parole che vi sto per dire. Clicchiamo sul tasto FPL, Flight Plan e compare questa nuova schermata aggiuntiva. Qui possiamo inserire i vari punti di navigazione e per farlo dobbiamo premere questa manopola FMS. Ci premiamo proprio sopra PIM e vedete che appare un riquadro lampeggiante in blu o azzurro, ciano se preferite. La rotella piccola a questo punto ci consente di iniziare a inserire il codice del punto di navigazione desiderato, in questo caso il nostro punto di partenza, per cui facciamolo una lettera alla volta e sarà l'aeroporto di Grottaglie che come vediamo dalla mappa ha sigla L-I-B-G. Quindi ruotiamo la rotella e andiamo fino a L, perfetto, così. Poi con la rotella grande scaliamo di una posizione e selezioniamo la seconda lettera che andremo a impostare sempre con la rotellina piccola. Vedete che se il sistema trova un codice univoco ci dà già il possibile punto di riferimento che possiamo inserire nel piano di volo. Se invece ci sono più punti non ce lo indica immediatamente. Più lettere inseriamo e più facile sarà che troveremo un codice univoco. Quindi postiamo LI che dovrebbe essere lo spazio aereo italiano. Passiamo avanti, cerchiamo B. Tra l'altro se nel sistema non sono presenti codici con LI5 per esempio, per fortuna questo metodo di ricerca salta le lettere e i caratteri che non sono presenti nel database. Quindi passiamo direttamente dall'I1 all'I7. LIA, LIB, ci sono ancora troppi dati qui, ci sono ancora troppi riscontri quindi non viene visualizzato. Passiamo alla quarta lettera e ne troviamo già questo, Amendola, Crotone, Palese Macchie di Bari, Lavio Superficie, Ginolisa di Foggia e Grottaglie. Eccoci qua. Abbiamo trovato il nostro primo punto per la nostra navigazione. Clicchiamo sul tasto ENTER e vedete è comparso il nostro primo punto. È comparso anche qui prima di questo slash che indica la partenza e la destinazione mentre a destra troviamo il DTK che è il radiale verso cui dobbiamo puntare il muso per raggiungere la nostra destinazione. Queste sono le miglia nautiche di distanza del nostro aereo dal punto di navigazione e l'altitudine è un'altitudine che viene impostata in maniera diversa in base al tipo di punto di navigazione. Quando noi impostiamo come punto di navigazione un aeroporto di default l'altitudine è quella della pista di atterraggio e decollo. In questo caso la pista di grottaglie è a 207 piedi che come vediamo corrisponde esattamente al valore che abbiamo anche nella nostra strumentazione. Vedete siamo tra 200 e 210. Naturalmente il valore del barometro deve essere corretto perché se è sbagliato chiaramente, come che si regolavano da qua scusatemi, vedete se andiamo a impostarlo male c'è una discrepanza tra il valore impostato dal piano di volo e il valore che andiamo a vedere nello strumento, ma noi sappiamo che è 2992 e quindi siamo sulla impostazione corretta. Bene abbiamo una partenza ma avremo bisogno anche di un arrivo. Allora vedete il sistema ci ha già passato al punto successivo. Come prima rotiamo la rotellina piccola e vedete ci fa comparire di nuovo la schermata di ricerca. Siamo fortunati perché volendo raggiungere un aeroporto e un aeroporto anche vicino perché è l'aeroporto di Bari possiamo semplicemente scorrere le lettere già impostate e cambiare solo quella che ci riguarda. Attenzione perché ogni lettera cancella tutte quelle successive quindi se avessimo cambiato B anche quella successiva sarebbe cambiata, sarebbe stata cancellata. Quindi se partiamo dalla fine possiamo cancellare solo l'ultima ma se cancelliamo la seconda anche la terza e la quarta spariranno. Quindi fate attenzione a giocare bene con queste manopole. Col mouse ripeto è parecchio difficile ed è facile sbagliarsi. Allora partiamo su Bari che è palese macchie. Perfetto abbiamo trovato Bari, facciamo enter, voilà. Vedete adesso abbiamo dopo lo slash il codice di Bari che rappresenta la nostra destinazione, comparsa anche qui, ho la direzione, la distanza e l'altitudine della pista naturalmente. Sulla nostra mappona è comparsa una linea viola bella cicciotta che rappresenta la nostra rotta da un punto all'altro. Ora noi vogliamo fare un giretto un po' più lungo, che ne dite? E magari vogliamo aggiungere un punto intermedio fra Grottaglie e Bari. Per farlo dobbiamo selezionare il punto di navigazione che vogliamo far scalare, ovvero il punto che dovrà seguire il punto che andremo a inserire. Quindi scegliamo Bari e senza cliccare nulla, senza premere tasti o altro, andiamo a girare la rotellina piccola. Non preoccupatevi, sembra che andiamo a cambiare quel punto, ma in realtà andiamo ad aggiungerne. Quindi adesso vedrete che dobbiamo impostare, ho deciso di impostare il VOR di Gioia del Colle, che è GIO, quindi andiamo a inserire la sigla. Adesso vedrete che cambiando la prima lettera, no, non si sarà mica incepato, no, ok. Cambiando la prima lettera, vedete si è cancellato tutto, G, andiamo poi con la I, e poi O. E qui i più attenti di voi avranno notato che ho inserito GIO, che è il codice corretto per il VOR di Gioia del Colle, ma notate che non è comparso alcun nome qua sotto. Perché? Perché su GIO, essendo un codice di solo tre lettere, ci sono diversi riscontri. Quindi facendo una ricerca sui VOR, non è raro che ci si ritrovi a dover scegliere qual è il radiofaro che davvero vogliamo impostare come punto di navigazione. Premendo Enter, compare una lista. Qui siamo fortunati in realtà perché ce ne sono solo due, però in generale può essere che ce ne sono anche di più e noi dovremo capire, dovremo decifrare le informazioni che troviamo qui. sullo schermo avete Duplicates, i duplicati con questo codice. Questa cosa è facile perché abbiamo due radiofari, uno indicato dalla sigla NDB, che indica un radiofaro non direzionale, che è l'ADF in genere, indicato da questa icona, questa specie di, come definirlo, questo fiore, non saprei definirlo meglio, e la sigla LI, che come abbiamo visto prima identifica lo spazio aereo italiano, quindi questo è in Italia. Poi abbiamo anche un VOR, con questa icona esagonale, e anch'esso è nello spazio aereo italiano. Sotto abbiamo delle informazioni altrettanto utili, perché ci dicono la posizione, con queste coordinate, la direzione del segnale, quindi il segnale arriva da 305 gradi, e la distanza, quindi sappiamo che se il nostro radiofaro deve essere a distanza di circa 30 miglia, ecco, questo probabilmente è quello che stiamo cercando. Noi però vogliamo il VOR, e non l'NDB, vedete che la posizione cambia, perché l'antenna radio è posta in punti diversi, di poco ma cambia. Quindi selezioniamo questo, e facciamo ENT. Voilà. Vedete? Dopo l'IBG non c'è più l'BD, che pure è rimasto nel piano di volo, ed è apparso GIO. Quindi abbiamo anche la indicazione nella mappa che il nostro piano di volo è cambiato, e facciamo una tappa anche su GIO. Se però non siamo soddisfatti di GIO come punto intermedio, possiamo andare sopra di lui, tra l'altro possiamo anche modificare l'altitudine se vogliamo, è lo stesso modo con cui modifichiamo il codice, quindi selezionato con la rotella grande, poi la rotella piccola per attivare la modifica, e qui andiamo a modificare i vari valori. ENTER blocca il valore su quello che abbiamo impostato. Comunque, selezioniamo, riattiviamo questa schermata, cliccando sulla manopola, e mettiamo su GIO. Avendolo qui selezionato, possiamo cliccare su Clear, e voilà, sparito nel nulla. Adesso per fare una funzione aggiuntiva, che forse avrei dovuto fare prima di cancellare quel punto intermedio, andiamo a inserire un aeroporto, così è più facile. No, abbiamo ancora GIO, per fortuna, quindi facciamo così, perfetto, vedete il sistema si ricorda. Se noi non vogliamo fare questa tratta, vedete c'è la tratta in viola, che indica LibG a GIO, noi invece fare da GIO a LibD, a Bari, possiamo cliccare qui, su questo tasto indicato da Act Leg, cioè tratta attiva, Active Leg, e vedete che la tratta viene cambiata, non è più GIO, ma è GIO LibD, e nella mappa noteremo che effettivamente, ups, è qua, ovviamente lo zoom impazzisce ogni tanto, vedete c'è solo quella tratta attiva, possiamo tornare indietro, cliccare su Act Leg, e abbiamo di nuovo il nostro piano di volo, come l'avevamo visto prima. Teniamolo così, lasciamo pure GIO, su, e vediamo invece come impostare un volo diretto, senza però modificare il piano di volo che abbiamo già impostato, magari dobbiamo fare una sosta, una sosta PP, diciamo così. Quindi clicchiamo sul tasto D, e troviamo un altro, un altro pannello di ricerca, qui possiamo inserire il codice di un aeroporto, o di un radio faro, come abbiamo fatto finora, non cambia molto, per cui mettiamo stavolta brindisi, e mettiamo BCS, che è il radio faro di brindisi, allora, B, C, S, così, voilà, dovrebbe essere giusto, facciamo Enter, e qui, e adesso il sistema ci dice, se vogliamo attivare questa, no, BCS deve essere qualcos'altro, forse mi sono sbagliato, assegnarlo, vabbè, poco, poco male, facciamo finta di attivarlo, oppure potremmo mantenerlo nel sistema, volendo possiamo anche mantenere il sistema, ma non lo attiviamo, vedete, compare una linea viola, anzi rosa, più stretta di quella del GPS, e ci indica una rotta diretta verso quella tratto, a questo punto, siccome chiaramente abbiamo sbagliato, appunto, possiamo andare di nuovo su D, e premere semplicemente Clear, ah no, bisogna andare sul, ecco, sull'indicatore, e cliccare su Clear, e ci cancella, il punto di volo diretto, e torniamo sul nostro piano di volo, impostato in precedenza, perfetto, una volta impostato tutto questo, siamo pronti, e possiamo decollare, però, prima di farlo, vorrei mostrarvi, un altro paio di funzioni, del nostro pannello multifunzione, perché essendo un pannello multifunzione, se non ha molte funzioni, da cosa viene questo nome, e queste funzioni le possiamo attivare, ruotando la rotellona grande, quando nessuno di questi tasti è premuto, e troviamo alcune cose interessanti, abbiamo, come avevamo visto anche dall'altra parte, ma qui è più chiaro e evidente, abbiamo la lista degli aeroporti più vicini, con tante informazioni, per esempio adesso abbiamo impostato, sull'aeroporto di Grottaglie, ci dà la distanza, suppongo, vediamo un attimo, se possiamo vederle meglio, facciamone un altro, no, deve essere l'altitudine, suppongo, 0 feet, sono tutte altitudine 0, questo 0 ft, non so, significativamente, cosa indichi, pensavo fosse l'altitudine, ma far strano che siano tutte altitudini, vabbè, lasciamo perdere questa informazione, non mi è chiara, pensavo fosse appunto l'altitudine della pista, strano, comunque abbiamo la direzione, 349 gradi, 0,7 miglia, il nome, l'altitudine, le piste attive, 17,35, il tipo di pista, qui è sconosciuto, poi abbiamo la lunghezza, della pista, e la larghezza, abbiamo poi le varie frequenze, delle torri di controllo, e anche del sistema ILS, se è presente, sistema LAS, che si riferisce alla pista 35, poi abbiamo anche i diversi tipi di approccio, che possiamo fare attraverso, il nostro ILS, poi, se ruotiamo ancora, la rotellina piccola, invece, no, dovevo cliccare qui, scusatemi, se ruoto la rotellina piccola, quando tutto è spento, possiamo vedere anche, i punti di intersezione, fra le varie rotte, più vicini, ruotando ancora, troviamo i VOR, più vicini, con le varie informazioni, anche qui, e anche i vari radiofari ADF, quindi è un sistema piuttosto completo, per avere un'idea di quello che ci circonda, un'altra funzione, è la funzione di ricerca, la funzione di ricerca degli aeroporti, se non erro nel G1000 reale, questa funzione di ricerca, è stesa anche ai VOR, e ad altri punti di riferimento, invece qui, sul G1000 simulato, è relativo solo agli aeroporti, come avevamo visto, nel piano di volo, anche qui, dobbiamo cliccare sulla manopola, qui, possiamo vedere un aeroporto, purtroppo, il sistema qui, visualizza immediatamente, l'aeroporto disponibile, con quel codice, è una cosa piuttosto brutta da vedere, perché, vedete, fa un effetto strano, vedere la mappa che cambia, così deve anche focalizzarsi sul punto, avrei preferito che rimanesse spenta, finché non clicchiamo ENTER, una roba abbastanza inutile questa, sinceramente, è anche fastidiosa, ma non la useremo mai, quindi, lasciamo pure, così, e poi c'è un'ultima schermata, una schermata di sistema, che non ci serve davvero, ok, torniamo alla nostra schermata principale, perfetto, a questo punto possiamo anche, beh, decollare, che ne dite, e per farlo, anzi, prima di farlo, vorrei impostare un paio di velocità, di riferimento, quelle di cui vi parlavo prima, quindi mettiamo, qui, attiviamo anche il nostro timer, per vedere il nostro, facciamo un conto alla rovescia, più interessante ancora, allora, vediamo se riusciamo ad attivarlo, eccolo qui, facciamo down, clicchiamo di nuovo, torniamo indietro, e regoliamo questo su, facciamo 5 secondi, facciamo enter, mettiamo start, facciamo enter, e vedete, parte il conto alla rovescia, conto alla rovescia, che poi, continua, proprio come sapete, il countdown, per lo shuttle, che poi il tempo diventa, da negativo, diventa positivo, facciamo stop, e facciamo anche reset, in questo modo abbiamo, visto anche la funzione timer, attiviamo la VR, per capire la velocità, alla quale potremo decollare, e attiviamo anche la VY, che è la velocità, di ascesa, ottimale, clicchiamo sulla manopola, per bloccare questo qui, adesso non lo vediamo ancora, ma lo vedremo presto, torniamo con la schermata, in maniera tale, che io posso vedere fuori, ok, e procediamo, con accelerazione, tutta birra, tutta manetta, togliamo i freni, ah, una cosa che volevo aggiungervi, è che, per tenere d'occhio, il centro pista, potete fare riferimento, a, qualche elemento, del cockpit, della cabina di pilotaggio, per esempio, se usiamo questo bullone, abbiamo un'idea, di dove è il centro pista, perché siamo un po', spostati verso sinistra, per cui se teniamo questo bullone, un po' a destra, della linea di centro pista, vuol dire che siamo al centro, adesso non lo siamo al centro, ma, anche perché abbiamo una velocità tale, che abbiamo già superato, la velocità R, di decollo, e anche quella Y, di, ascesa ottimale, adesso andiamo a vedere, vedete questa Y, è la velocità di ascesa ottimale, quindi aumentiamo un attimo il grado, in questa fase, mi dà anche l'opportunità, di mostrarvi, intanto qui, questo valore lampeggia, perché abbiamo superato, quello che avevamo impostato, manualmente prima, questo momento, mi dà l'opportunità, per mostrarvi, un altro elemento grafico, presente in questa schermata, che non potevamo vedere, quando eravamo fermi, ovvero un valore predittivo, che, tachimetro, altimetro, e bussola, ci danno, relativamente alla velocità, all'altitudine, e alla direzione, come vedete, qui, sull'altimetro, questa barretta viola, che si allunga, e si accorcia, ci dice, fra 5 secondi, a che altitudine, sarà il nostro aereo, sempre che, tutti i parametri, che abbiamo, attualmente impostato, rimangano costanti, quindi, fra 5 secondi, il nostro aereo, sarà circa, 1100 piedi, vi assicuro, che è così, perché l'ho calcolato, lo stesso vale, per la velocità, vedete, c'è questa barretta viola, che sta scendendo, perché, se continuiamo così, tra 5 secondi, la nostra velocità, andrà a calare, una cosa simile, avviene nella bussola, perché, se facciamo una virata, compare, questo indicatore, che ci dice, fra 8 secondi, dove saremo, con la nostra virata, attuale, per cui, può essere utile, per capire, se stiamo andando, su troppo veloci, oppure, a che livello, arriveremo, se continuiamo così, infatti, possiamo poi regolarci, cercare di tirare giù il muso, magari in maniera più delicata, per mantenere, la cosa viola, su 1500, per sapere, che effettivamente, rimarremo così, perfetto, ormai siamo in quota, e direi, che è tempo, di fare, finalmente, l'introduzione, dell'autopilota, e l'autopilota, lo attiviamo, con un semplice gesto, premiamo il tasto, AP, engage autopilot, benissimo, abbiamo ingaggiato, abbiamo attivato, l'autopilota, e l'autopilota, cosa fa, quando noi premiamo AP, questa è la forma base, di autopilota, l'autopilota, vediamo qui, che è stato attivato, qui sopra, ci sono le varie informazioni, sul nostro piano di volo, qui abbiamo AP, che indica, che l'autopilota, è attivo, LVL, indica level, cioè, questo ci dice, che l'aereo, manterrà questo assetto, e PIT, indica PITCH, ovvero, non PITCH, la principessa di Super Mario, ma PITCH, ovvero, l'angolo, che abbiamo, di cabrata, noi, stavamo, andando, verso l'alto, perché io, avevo tenuto, l'aereo, in salita, appena, ho cliccato, su AP, l'autopilota, ha detto, bene, mantengo, questo angolo, che tu hai impostato, io posso andarlo a cambiare, volendo, ma lui cercherà di riportarlo, dove l'avevamo bloccato, quindi è proprio un sistema automatico, che blocca tutto, come l'avevamo fatto, poi se disattivo, ovviamente, riprendo il controllo dell'aereo, e posso fare quello che voglio, se faccio una virata, e clicco AP, vedete, lui cerca di riportarmi, a livello, però mantiene comunque, l'angolo di salita, l'angolo di virata, viene riportato a zero, l'angolo di salita, invece, viene mantenuto, quello che avevo impostato io, con la nostra cloche, da qui, possiamo passare, a vedere anche il flight director, che col tasto FD, ci fa vedere, in pratica, il comportamento, meglio la direzione, che dovremo assumere, anzi, l'assetto meglio, che dovremo assumere, per seguire le impostazioni, che abbiamo applicato, per esempio, se io adesso faccio così, e provo a virare, vedete, lui mi dice, guarda che dovresti stare dritto, e l'autopilota c'è bene, adesso ti rimetto dritto, purtroppo anche l'autopilota è bugato, quindi fate attenzione, a volte succede che aumenti il trim, a valori assurdi, oppure che inizi virate senza senso, quindi, non andate a bervi un caffè, quando avete l'autopilota impostato, perché è bugatissimo, è una cosa su cui Microsoft, deve assolutamente lavorare, perché su voli lunghi, è inaccettabile, che ci siano problemi, con l'autopilota, però noi passiamo oltre, l'F10 può essere utile o no, possiamo anche mantenerlo su, passiamo al prossimo tasto, di questa serie, dedicata all'autopilota, HDG, HDG cosa fa? HDG, heading, è un valore che abbiamo già trovato, semplicemente, dice all'autopilota, di far virare l'aereo, di mantenere la rotta, su quella che abbiamo mostrato, manualmente, su questo valore qua, quindi clicchiamo, qui vedete cambia, non è più level, ma diventa heading, e vedete che l'aereo, automaticamente, ci porta, sulla, direzione di 346, che avevamo impostato, poc'anzi, e la manterrà, possiamo anche provare, se vogliamo, a fare una virata, attenzione che manovre, troppo brusche, vanno a disattivare, l'autopilota, così, vedete, lui ci riporterà, automaticamente, verso, la direzione, che abbiamo impostato, poi abbiamo, alt, alt, è piuttosto, complessa, come cosa, non complessa, ma ha diverse funzioni, se noi clicchiamo alt, l'aereo, cosa fa, non mantiene più, l'angolo di cabrata, che avevamo impostato, cliccando a P, ma, si pone, per mantenere, l'altezza, che avevamo, a quel momento, in quel momento, in quel momento, eravamo a circa, 3.300 piedi, e lui, vedete, ha impostato, automaticamente, questo valore, e anche qui, sulla schermata, di indicazione, dell'autopilota, ha impostato, alt, 3.300 piedi, come facciamo, però, adesso, a modificare, questa quota, possiamo farlo, sempre tramite tasti, in due modi, principalmente, possiamo farlo, premendo il tasto, VS, VS indica, la velocità, verticale, vertical speed, cliccando qui, vedete, è cambiato, il valore, vertical speed, 0 feet per minute, quindi piedi al minuto, e alts, quindi, è una cosa, automatica, dell'altitudine, qui, vedete, è comparsa, un'altra, coroncina azzurra, e qui, il valore è diventato, 0, se noi andiamo, a cliccare, su questi pulsanti, nose up, e nose down, andiamo, ad aumentare, la velocità, di ascesa, o di discesa, però, prima di questo, andiamo, anche a impostare, un valore di altitudine, diverso da 3.300, andiamo a portare in alto, diciamo, 4.500, fatto questo, ci basta dire, nose up, portaci su, qui è cambiato, il valore è diventato 100, che si riscontra anche qui, 100 piedi al minuto, in pratica, ogni minuto saliamo di 100 piedi, e possiamo aumentarlo, a nostro piacimento, naturalmente, più andiamo, con un angolo, ampio, di salita, e minore sarà la velocità, velocità, che ritroviamo, nell'altra funzione, che ci permette, di modificare, la nostra altitudine, che è la modalità, flc, relativa alla velocità, dell'aereo, alla velocità, di crociera, facciamo flc, e vedete, è cambiato, flc, 90 nodi, e qui è comparso, un valore, che è riportato, anche qui, cosa succede qui, è comparsa, anche una coroncina, qui a sinistra, ed è sparita, qui a destra, perché qui, l'aereo, l'autopiloto, cercherà di mantenere, una velocità, di 98 nodi, per portarci, all'altitudine, indicata, qui, entra in gioco, un'altra cosa, entra in gioco, la manetta, la manetta, non è regolata, automaticamente, dal nostro, pilota automatico, dovremo farlo noi, almeno sul Cessna, 172, in altri, aerei, è tutto fatto, automaticamente, qui invece no, cosa dobbiamo fare allora, dobbiamo gestire il gas, per fare in modo, che l'aereo salga, o scenda, alla velocità che vogliamo noi, infatti, qui a differenza, della velocità verticale, che era decisa, dal nostro autopilota, qui la possiamo decidere noi, manteniamo la velocità, però, andiamo a impostare, la velocità di ascesa, allora, intanto, per prima cosa, è forse meglio diminuire, un po' la velocità, fissa, perché 98 è un po' troppo alta, per la quota, che volevamo raggiungere, vedete, la sto diminuendo, e l'aereo, immediatamente, tira sul muso, per rallentare un po', e di conseguenza, aumenta anche la, velocità di ascesa, facciamo, facciamo la velocità normale, quella 70, 74, quella indicata, dai produttori, come velocità ottimale, mettiamo 74, ormai siamo in vicinanza, della quota, la possiamo anche aumentarla, a questo punto, facciamo 5,5, ok, vedete, lui cerca di tirar su, mentre rallenta, e qui, fa un po' di, eh, un po' di mal di mare, perché, l'autopiloto è un po' ballerino, quando si tratta di trovare, la velocità giusta, però alla fine la trova, sempre che non vada in tilt, però se noi diciamo, stai salendo un po' troppo rapido, caro aereo, allora noi cosa facciamo, rallentiamo un po' la manetta, in questo caso, la velocità va a scendere, e per mantenerla, l'aereo è costretto, a ridurre l'angolo di ascesa, in questo modo, noi abbiamo un controllo più preciso, andiamo anche a modificare la miscela, come potete capire, vedendo l'altro tutorial, dedicato alla miscela, per avere un po' più di potenza, visto che l'avamo persa, in larga parte, data la rarifazione dell'aria, e vedete che adesso, stiamo salendo a circa, 400 piedi al minuto, ma siamo ancora un po' troppo veloci, allora diminuiamo ancora un po' la manetta, e vedete, la salita è ridotta, adesso stiamo addirittura scendendo, ma si sta ancora bilanciando l'aereo, e saliamo a 250, quindi può essere utile, per avere un controllo più fine, sulla salita del nostro aereo, e vedete che qui, è proprio impostato su 74, che è la nostra salita di riferimento, per l'ascesa ottimale, perfetto, quindi possiamo passare oltre, e per passare oltre, passiamo al tasto NAV, cosa fa il tasto NAV? Il tasto NAV segue il piano di volo, o il sistema di navigazione, che abbiamo impostato, sul nostro bussolone centrale, che andavamo a cambiare, come sapete, con CD, e andiamo a impostare, come sistema di navigazione, il GPS, in questo modo qui, cliccando su NAV, vedete, viene qua, al posto di heading, viene fuori GPS, e il nostro aereo, cercherà di allinearsi, alla direttrice, che ci porterà, lungo, questo corridoio, verso Gioia del Colle, questa funzione, non regola l'altitudine, che è sempre in mano nostra, quindi potremo sempre, modificare l'altitudine, in base a, il nostro desiderio, senza andare a modificare, però, la direzione dell'aereo, non so se, su certi Garmin, la velocità, al meglio, l'altitudine, impostata nel piano di volo, venga poi riconosciuta, dall'autopilota, ma mi pare, che in questa simulazione, non lo sia, quindi ricordatevi sempre, che se dovete seguire, un piano di volo, con un'altitudine, specifica, è sempre bene, che state attenti, e che non lasciate, all'autopilota, il compito di regolarla, fatelo sempre voi, per sicurezza, ecco, ci sta portando adesso, verso il, vor di Gioia del Colle, altri tasti, indicano, funzioni, relative, all'atterraggio, all'approccio, in maniera strumentale, sono tutte cose, che vi mostrerò, eventualmente, nel video dedicato, all'ILS, ma per il momento, possiamo lasciarle perdere, però, direi che con questo, ormai siamo diretti, verso Gioia del Colle, e poi verso Bari, penso di avervi detto tutto, relativamente, sia, alla Garmin G1000, sia all'autopilota, come sempre, i commenti, sono ben accetti, e potete lasciare, sia per, così, darmi un giudizio, su questo video, e anche per, farmi sapere, le vostre esperienze, con l'autopilota, se anche voi, avete avuto problemi, di impazzimento, di questo sistema automatico, però, mi fa sempre piacere, leggervi, quindi, siete invitati, a lasciare due parole, qua sotto, per quanto mi riguarda, finisco qui, e noi, ci rivediamo, al prossimo, video, e, 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 Grazie a tutti.